l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e la vergine concepì per opera dello spirito santo eccomi sono la serva del signore accada di me secondo la tua parola e il verbo si è fatto carne ed abita in mezzo a noi prega per noi santa madre di dio affinché siamo fatti degni delle promesse di cristo ecco carissimi amici un saluto affettuoso una buona domenica quale sono le promesse di cristo il centuplo qua giù sulla terra in questa vita insieme ai problemi a persecuzioni e nel futuro la vita eterna oggi è domenica il giorno del signore la pasqua della settimana come ci siamo detti domenica scorsa quando abbiamo accolto l'annuncio che si fa l'epifania della pasqua del signore la domenica viene definita la pasqua del signore perché il giorno in cui facciamo memoria della risurrezione dalla morte di gesù e speriamo nella nostra risurrezione ecco la prima cosa che vi volevo dire carissimi amici che domenica scorsa sono rimasto proprio folgorato quando ho celebrato la messa sapete io celebro la messa ogni domenica alle 18 alla parrocchia di san giovanni battista proprio all'ingresso dell'autostrada cosenza sud c'è un crocione di inferro su questa chiesa e io celebro lì ogni domenica ma domenica sono rimasto impressionato dalla preghiera della della liturgia era il battesimo del signore domenica scorsa non l'avevo letta prima e sono rimasto impressionato e voglio comunicare il mio stupore difatti la messa l'ho fatta durare pure contro i soliti io di solito la messa meno di un'ora non ce la faccio perché mi prende e abbiamo finito quasi 45 50 minuti perché sono rimasto così colpito dalla preghiera che poi ho continuato a fare in questi giorni che vi propongo guardate come ci educa la chiesa come ci insegna a pregare padre onnipotente ed eterno che dopo il battesimo domenica scorsa il battesimo nel fiume giordano proclamasti il cristo tuo diletto figlio mentre discendeva su di lui lo spirito santo concedi a noi tuoi figli rinati nell'acqua dall'acqua e dallo spirito ecco concede non quello che di solito chiediamo noi salute quieto vivere benessere divertimento no di vivere sempre nel tuo amore ma io sono rimasto impressione ma ci pensate amici se pregassimo tutti così i politici gli insegnanti i professori i docenti universitari gli infermieri i medici tutti chi di vivere sempre vivere vivere significa anche lavorare nell'amore di dio sentendo questo amore di dio che non ha risparmiato suo figlio ecco questa è la fede cristiana carissimi amici e poi dopo questa bellissima preghiera di domenica scorsa abbiamo iniziato il tempo ordinario difatti oggi è la seconda domenica del tempo ordinario perché la prima domenica del tempo ordinario è occupata dalla memoria del battesimo di gesù vi ricordate gesù che si mischia con noi peccatori e lui che non ha bisogno di essere battezzato si lascia battezzare da giovanni che non lo vuole battezzare e quindi lunedì abbiamo iniziato la prima settimana e questa prima settimana la chiesa ci ha fatto chiedere al padre eterno di ispirarci pensieri e propositi buoni perché ognuno di noi possa vedere ciò che deve fare ecco questo dobbiamo chiedere ognuno di noi nella preghiera venga illuminato su ciò che deve fare e poi abbia la forza di compiere ciò che ha veduto ma carissimi amici perché questo accada abbiamo bisogno di incontrare gesù ma oggi gesù lo incontriamo se incontriamo qualcuno qualche persona il punto è sempre ria arriviamo di fatti il vangelo il primo vangelo di lunedì scorso era proprio il racconto di questi uomini che incontrano gesù che si sentono chiamati da gesù dice il vangelo di marco dopo che giovanni fu arrestato gesù andò in galilea proclamando il vangelo di dio e diceva il tempo è compiuto convertitevi perché il regno di dio è vicino convertitevi e credete nel vangelo in questa buona notizia dio non solo esiste ma dio è padre e c'è una gioia infinita che aspetta tutti 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 dio ci vuole salvare tutti ecco passando lungo il mare di galilea vide simone e andrea i fratelli san pietro e suo fratello andrea fratello di simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori e gesù dice loro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciate le reti lo seguino cosa vuol dire diventare pescatori di uomini attrarre gli uomini noi sappiamo che c'è uno che poi cerca di pescare gli uomini no u diavolo noi diciamo quando u diavolo taccarezza vuol l'anima i commercianti chi vuole vendere chi vuole qualcosa da te vuole qualcosa da me ma non vuole la mia gioia e bisogna stare attenti perché tanti si presentano a noi in veste di pecora dice gesù statevi attenti a quelli che si presentano a voi in veste di pecora ma dentro hanno il lupo rapace vengono tutti sdolcinati come come il lupo no quando incontra cappuccetto rosso e così mentre il signore non vuole altro da noi che noi possiamo diventare come lui ecco perché gesù ci chiama perché se seguiamo gesù se entriamo in comunione con lui vi ricordate la madonna il 2 gennaio cari figli oggi vi invito ancora alla comunione con gesù mio figlio il mio cuore materno prega affinché comprendiate che siete la famiglia di dio entrare in comunione con gesù significa credere sempre di più in dio padre onnipotente creatore del cielo della terra e il desiderio di fare la sua volontà di scoprire la sua volontà allora si diventa pescatori di uomini ecco se si incomincia a seguire gesù a sperimentare questa gioia ecco allora arriviamo ad oggi questa seconda domenica del tempo ordinario e prima di leggere il vangelo di questa domenica ecco lasciamoci educare nella preghiera perché dice san san giacomo noi non certe volte no san paolo lo dice non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare quello che domandiamo è sempre il quieto vivere la salute ma è una cosa giusta ma non è questa la preghiera di fatti oggi nelle chiese di tutto il mondo si ripeterà ecco signore io vengo per fare la tua volontà perché questo è il punto vengo signore per fare la tua volontà ecco dio va in cerca di uomini che siano disposti a fare la sua volontà a dare la vita non c'è amore più grande di questo diceva gesù che dare la vita per i propri amici non usare dei propri amici a proprio uso e consumo per il proprio interesse ma amare gratuitamente questa è la nostra natura noi siamo simili a dio che ci ama se senza ritorno non abbiamo bisogno del ritorno una mamma un padre non hanno bisogno del ritorno dei figli quello che ha scritto quella commedia che non lo so se è una commedia che criscia figli criscia purci ma chi ne ha comandato di mettere al mondo figli si mettono al mondo figli perché tu e tua moglie tu e tuo marito vi volete bene e volete far partecipare ad altri di questo bene non perché i figli poi devono ricambiare qualcosa i figli vanno si mettono al mondo poi e li si accompagna nell'affrontare la grande avventura della vita perciò dobbiamo lasciarci educare carissimi amici dalle preghiere della chiesa non pregare secondo la nostra tendenza la nostra tendenza è il quieto vivere e i nostri interessi e stare tranquilli io sono un seguace di don giussani che ci ha sempre augurato vi auguro di non stare mai tranquilli perché essere uomini non si può stare tranquilli se siamo veramente uomini allora dio onnipotente ed eterno questo dobbiamo chiedere in questi giorni incominciando da oggi domenica dio onnipotente ed eterno che governi il cielo e la terra il cielo e la terra non lo governa noi i re di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo gesù disse a pilato tu non è di questo modo fai quello che devi fare ma tu non sai chi sono io ci dice pilato a gesù quando lo contano ma che fai fai quello che devi fare perché io sono venuto per testimoniarvi che si può credere in dio qua anche quando si viene accusati ingiustamente anche quando non si è fatto nulla di male ecco allora dio onnipotente che governi il cielo e la terra il cielo e la terra lo governa dio non lo governa nessun altro ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo ecco se noi davvero ci riuniamo per pregare e dona ai nostri giorni io sono arrivato a 53 anni carissima mezza e che dove c'era scritto anzi a giugno saranno 54 e dove c'era scritto quanti amici quante persone che io conosco piccoli all'unni miei che non ci sono più i giorni quanti saranno quanti giorni ho ancora da avuto quanti non lo sappiamo ma quanti sono sono i nostri giorni ecco dona ai nostri giorni il dono più bello la tua pace non la nostra pace che non facciamoci del male stiamo tranquille buoni come i due orfani di pascoli che dopo che muore la mamma diventano buoni diventano mamma lucchi perché quando c'è la mamma si litigavano però c'era la mamma e erano vivi poi muore la mamma ecco e sono tutti tristi paurosi ecco noi la pace del signore la pace che possiamo acquistare e riacquistare continuamente quando ci rivolgiamo a lui come si è rivolto a gesù san pietro no signore tu sai tutto tu sai quanto sono debole quanto sono fragile pecco in pensieri in parole in opere in cose che dovrei fare e non faccio non riesco a fare ecco gesù abbi pietà di me tu lo sai che ti amo ecco questa è la pace carissimi amici quando ci riconosciamo fragili deboli bisognosi dell'amore di dio e dell'amore dell'aiuto dei fratelli carissimi amici ecco allora quando incontriamo persone di questo tipo noi facciamo esperienza di dio ecco non quando parliamo di gesù perciò gesù c'è ci sprona spronava i suoi amici e continua ancora oggi pregate 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 il padre eterno perché mandi uomini veri in questo mondo perché quando incontriamo qualcuno che dice pane pane vino al vino che è sincero ecco non è tanto coerente perché la coerenza è un dono di dio per essere coerenti per fare il bene c'è bisogno di fare un'esperienza dell'amore di dio attraverso gesù cristo che ci ha portato solamente un comandamento amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi se non conosciamo l'amore di gesù non abbiamo la forza di volerci bene e perciò di perdonarci questa è la meraviglia allora il verbo si fa carne carissimi amici se non rimane rimane rimangono parole 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 come la canzone vi ricordate di mina e alberto lupo parole 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 soltanto parole e speriamo che non rimangano soltanto soltanto parole o fumo ma che diventino arrosto diventino carne il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi a quanti lo hanno accolto ecco perché anche oggi quando si incontra qualcuno che vive nella grazia di dio che vive seguendo la legge la legge la nuova legge la legge dell'amore ecco ci sono tanti che veniamo colpiti ma tanti provano fastidio noi stiamo assistendo a questo eccidio dei cristiani nel mondo perché danno così fastidio queste minoranze di cristiani che sono veramente cristiani perché sono piccole comunità non sono come da noi in italia in europa che siamo tutti cristiani tutti battezzati ma senza gesù cristo noi stiamo vivendo un tempo dopo cristo ma senza cristo pure delle nostre comunità si sta così è una cosa all'acqua di rose carissimi amici quando il verbo si fa carne quando c'è qualcuno che fa un'esperienza e noi dobbiamo stare con questa attesa che possa accadere qualcosa non potremmo cambiare i renni tra sempre con san francisco e paolo abbiamo bisogno di santi oggi nel 2011 carissimi amici cioè dire persone che accolgono lo spirito e dicono sì ecco perché veniamo anche qui in televisione ad annunciare il vangelo di gesù cristo che questa domenica è il vangelo secondo giovanni in quel tempo giovanni vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo apriamo bene le orecchie carissimi amici il peccato del mondo non i peccati è logico poi facciamo innumerevoli peccati pensieri parole opere e omissione perché abbiamo il peccato ecco ecco l'agnello di dio mansueto gesù non è che toglie il peccato del mondo perché se lo prende lui gesù prende su di sé il mio peccato il tuo peccato il nostro peccato perché è un peccato che non crediamo di essere figli di pensate quando entri nello studio di un medico io dovevo diventare medico e questo qui invece di guardare e ci sono tanti bravissimi medici eh non vorrei essere frainteso non voglio parlare contro nessuno ma se entri da un medico ecco il medico napoletano ma non mi viene il nome che alla grazia di che ti guarda come un figlio di dio come un suo fratello una sua sorella e ti visita ti tratta non pensa ai soldi che poi gli devi dare però tante volte carissimi amici così medici politici priepiti professori tutti quanti per l'interesse veniamo tra noi stiamo male per questo amici ma questo è il peccato perché non crediamo che siamo figli di dio perché siamo così i concorrenti siamo tutti quanti che dobbiamo vincere qualcosa e questo è il peccato e gesù è venuto a togliere questo peccato del mondo il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua e giovanni battista che parla perché egli fosse manifestato a israele israele ebrei che mistero che sono sebrei e che sono rimasti ebrei e pure noi siamo come ebrei giovanni perché non si vede nella nostra vita che abbiamo lo spirito di cristo si c'è lo spirito di cristo la vita è diversa che tutto il resto sul chiacchiere giovanni testimonio dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi aveva mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse stai attento colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo che ci battezza nell'amore di dio nel fuoco di dio non c'è un peccato carissimi amici che non possa essere perdonato ecco perché io in questi giorni mi sono trovato a dire dire quella cosa che chi di speranza vive di sperato muore è una cosa stupida brutta non è vero che chi di speranza vive di sperato muore assolutamente perché la verità è che la speranza è l'ultima a morire fino alla fine ecco c'è speranza che il signore si manifesti nella nostra vita e bruci questo nostro peccato ecco perché adesso vorrei ascoltare con voi questa canzone che dice quello che in sintesi quello che ho detto io l'ascoltiamo in due tranci ascoltiamo questa prima parte ecco siamo tutti su tu stesso cielo sono delle parole semplici ma veramente che se le accogliamo ci ci aprono un po il cuore se io spalancassi per la prima volta gli occhi in questo istante uscendo dal seno di mia madre io sarei dominato dalla meraviglia e dallo stupore delle cose come di una presenza sarei vestito dal contraccolpo stupefatto di una presenza siamo tutti su tu stesso cielo siamo tutti su tu stesso sole siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle respiriamo tutta stessa ne viviamo tutta stessa camminiamo sopra stessa terra come si spiega tutta sta guerra noi ne scordiamo troppo facilmente che siamo nati senza fa domanda e tutte cose canesimo chini quando morimo ne portamo niente avevo sembra putta sotto naso facciamo a gara a chi nel lucio smirto e ne facimo tanti grandi susi ma si mu su luci c'è presuntuosi ne facimo tanti grandi susi ma si mu su luci c'è presuntuosi mi piacciono queste parole allora è questo il motivo per cui facciamo fatica carissimi amici allora chi ci ha fatti chi ci ha fatti ci ha fatti così ecco con questa possibilità di debolezza nella seconda parte della di questa canzone io tento di dire che chi ne ha fatto non si è sbagliata abbia prevista tutta s'ambroglia ma ha voluto farci liberi liberi anche di sbagliare perché non siamo marionette la favola di pinocchio ecco la dobbiamo tenere presente perché questo mistero veniamo creati e poi noi per diventare uomini liberi per fare il bene e c'è tutto un cammino da fare ascoltiamo la seconda parte chi ne ha fatto non si è sbagliato abbia prevista tutta s'ambroglia abbia prevista tutta s'ambroglia abbia fatto liberi di sbagliare liberi pure da ammazzare chi ne ha fatto non si è sbagliato ne cogia tutti di ingiusto e subrodo ne giracchiano un giassaco ad ara non tena pressa ne sa aspettare chi ne ha fatto non si è sbagliato abbia prevista tutta s'ambroglia e per salvare proprio a tutti quanti n'ha dato figlia e n'ha data mamma chi ne ha fatto non si è sbagliato e ne va bene veramente quello che dicevo prima ecco fino all'ultimo ne perdona finché c'è vita e c'è speranza non non facciamoci condizionare imbrogliare ingannare ecco dalle cose stupide che tante volte diciamo non è vero che finché c'è chi di speranza vive di sperato muore no la verità è che chi vive di speranza fa bene perché fino alla fine c'è la speranza proprio stamattina a scuola diceva ai ragazzi dico quando abbiamo una persona cara che sta male anche se i medici dicono che non c'è niente da fare noi fino alla fine fino all'ultimo possiamo chiedere a dio il miracolo perché a dio tutto è possibile poi se dio non ce lo fa ecco qui casca l'asero carissimi amici ecco se abbiamo lo spirito di cristo anche con dolore anche con dispiacere accettiamo la volontà misteriosa di dio perché noi non sappiamo qual è il nostro vero bene ecco secondo la nostra misura ma se noi abbiamo lo spirito di gesù ecco noi diventiamo capaci come chiediamo ecco il nostro caro regista mi fa segno che mancano due minuti dobbiamo concludere questo nostro incontro io lo voglio concludere pregando ecco dobbiamo pregare carissimi amici dobbiamo pregare specialmente la madonna la madre di gesù perché è lei che sa veramente chi è gesù e difatti lei non ci parla di gesù ma ci è ce lo mostra gesù ci aiuta ci fa compagnia ci spinge ecco perciò io voglio concludere questo nostro incontro con la preghiera sperando anzitutto per me di poter pregare seriamente perché quando preghiamo seriamente carissimi amici dio interviene perché il vero disoccupato c'è tanta disoccupazione i nostri governanti sono disgraziati se non vanno qualcosa per aiutare però il vero disoccupato in questi nostri tempi di confusione e ciutia e dio perché noi non lo facciamo lavorare gesù dice voi siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro celeste darà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono perciò dobbiamo pregare carissimi amici e concludo pregando insieme a voi la madonna santa maria madre di dio tu hai donato al mondo la vera luce gesù tuo figlio 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 di dio ti sei consegnata completamente alla chiamata di dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da lui mostraci gesù guidaci a lui insegnaci a conoscerlo e ad amarlo perché possiamo anche noi diventare come te capaci di vero amore ed essere in questo mondo assetato punti di luce ecco testimoni di dio vi saluto carissimi amici e vi auguro una buona domenica e una buona settimana sperando di vederci la prossima